Ciao, sono Apache Design. Vi aspetto domenica 1 aprile dalle 15.30 dove realizzerò un quadro che andrà all'asta. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza al Team 4 Children per i bambini malati di cancro. Una salsa per la vita, discoteca pare di giolatino, domenica 1 aprile dalle 15.30. Diamo un sorriso a questi bambini. Vi aspetto. Ciao a tutti da Apache Design.